Caro Luca, caro Luca o caro Barbareschi, io non fumo. E quindi sto fumando, no? Pensavo che tu fossi in grado di capire i paradossi. Da quando tu sei venuto, avendo io pensato di esporre le opere di tua figlia, che è molto brava e che è presente alla nostra Centris e Solitari a Sutri, e capitava qualche giorno fa, io non solo ero compiaciuto, ma avevo desiderio che tu intervenissi. E quindi mi è sembrato naturale darti la parola che tra l'altro qualcun altro aveva invocato. Però che io debba leggere, caro Vittorio, che io ero venuto a darti manforte non è piacevole contro di me. Vuol dire che tu sei venuto dalla mia manforte e che io mi sarei messo contro di te. Ma tant'è. Penso che non andrò da nessuna parte più. Auguri. Anzi, adios. Ecco, adios è come un messaggio di una ragazza delusa che dice me ne vado. Vorrei capire dov'è la delusione, cosa è capitato. Cerchiamo di capire. Tu dimentichi troppe cose della mia vita. Io veramente non dimentico. Non so cose della vita di nessuno. Non conosco le tue. Non sono preoccupato di ricordarle o dimenticarle. Io non mi permetterei mai di parlare così. Vorrei sapere cosa ho detto. Tu ti sei permesso di parlare così. Allora, avviene che io ti do la parola. Stiamo parlando della corruzione della Biennale di Venezia. E tu dici cose contestualmente interessanti. Ma invece di attribuirle a una realtà negativa, fai un attacco. Per me neppure di per sé, come dire, è difficile giudicarlo perché non è un attacco di sostanza. È un attacco di forma. Come qualcuno che bestemmi in chiesa. Tu vieni in un luogo in cui ci sono molte donne, fra cui tua figlia, alcuni artisti omosessuali dichiarati, un vice sindaco omosessuale e comunista, e dici la mafia dei froci e delle lesbiche. Io ti ascolto, io stesso sono rimasto turbato. Ma questo sta a dimostrare che tu non hai fatto qualcosa in favore della mostra. L'hai completamente soffocata perché nessuno ha parlato degli artisti eccentrici e solitari e tutti soltanto della tua polemica personale e soltanto della tua parolaccia. Certo, capisco che un vero frocio non sopra a sentirsi chiamare frocio. L'amico Cerno si fa chiamare Finocchio e preferisce Finocchio a gay. Posso capirlo. Ma tu l'hai detto con quel disprezzo che mi ha indotto, non dico a sconfessarti o a prendere distanze. Ma certo, ho dovuto dire, io non avrei usato questo linguaggio, tanto che io stesso ho sentito come una frustata e il mio vice sindaco ha sentito offeso tutta la categoria dei gay, delle lesbiche. Ammesso pure che abbiano esagerato. Io però credo che tu non sia venuto a dar man forte né a me né a tua figlia, perché nessuno ha parlato delle mostre, tutti hanno parlato di te. Hai fatto il tuo show, che per me va benissimo, io ne ho fatti tanti, non sarò qui, ma non capisco di cosa sei deluso. Io ho detto la verità, che dire la mafia dei froci era forte e poco gradevole. Uno può andare a dire anche davanti al Papa, e io assolutamente sono come il Papa, puoi consentirmelo, la mafia dei pedofili non lo fa, non lo dice. Perché il Papa non c'entra con i pedofili e perché la Chiesa è importante peraltro. Quella è una mostra in cui c'è la tua figlia. Quindi tu hai fatto qualcosa di sgradevole, ma neppure non devo giudicare. Non capisco però perché non consenti a me di risponderti che sei stato fuori luogo, sei stato poco elegante o sei stato poco cortese. L'ho detto anche alle Iene, le vedrai poi le Iene. Ma adesso rispondo a questo messaggio in cui tu fai la vittima. Invece di dire, ma mi dispiace che ho rovinato la festa, ma non perché a me importi molto che tu l'abbia rovinata. Perché si è parlato solo di te, non si è parlato più di nessun artista, neanche di un bronzo meraviglioso etrusco, solo di te e della tua sfuriata che riguardava il cinema e te e il tuo lavoro, non gli artisti, non tua figlia. Quindi non fare le prediche adesso a me, perché io ho detto che tu hai forse esagerato nel linguaggio. Avesse detto la lobby gay, lo dicono tutti, la mafia degli omosessuali forse, ma la mafia dei froci è sembrato sgradevole a quelli che poi, come si è visto, hanno reagito. Hanno ragione, hanno torto, sono permalosi, scherzavi, benissimo scherzavi. Ma se tu scherzavi, scherzavo anch'io. Che ho detto semplicemente è che tu non hai nulla contro gli omosessuali perché sei omosessuale anche tu. O vuoi negarlo, non lo posso dire. L'hai detto, l'hai scritto, l'hai manifestato. Io l'ho saputo, forse secondo te erano notizie riservate. Ma che tu sia stato con transessuali, lo sanno anche le pietre. Che tu abbia avuto pratiche omosessuali, lo sanno anche le pietre. Che tu non sia froccio può anche darsi. Ma la sperimentazione del mondo diciamo dei nostri simili, quindi l'omosessualità, dà d'annunzio a me stesso. Anch'io ho frequentato, ho visto dei trans. E cosa c'è di male? Perché quindi avrei dovuto pensare ai tuoi figli. Cioè fai anche il patetico? Io non mi permetterei mai di parlare così. Ma io come ho parlato? Ho detto che mi dissociavo neppure dal concetto, ma dal tono, dalla sgradevolezza, dal fatto che tutti hanno parlato di te, dandoti anche ragione, come ha fatto Libero, perché è quello che hai detto, si poteva dal punto di vista razionale intendere come una critica a un potere che il mondo omosessuale ha dimostrato nel corso degli anni nel cinema e nel teatro. Ti dirò di più che tutti conosciamo il caso Weinstein perché la forza delle donne ha preso questo produttore che ha fatto come tutti, come tutti i produttori, da Ponti, a De Laurenti, se non vorrei poi dire cose, a Cristaldi. È sembrato sempre naturale quando ero un ragazzo che il regista e il produttore che sono rapporti con le attrici, speriamo consenzienti. Ma qualcuno, e io l'ho detto, ha ricordato che gli attori che lavoravano per Visconti andavano a letto con lui, che quindi Visconti era come Weinstein, con i suoi parenti che sono miei amici si offenderanno. Intendo dire che Helmut Berg e la Lendelon hanno per lavorare in questa lobby o questa mafia, forse mafia è una parola che è troppo legata alla criminalità per usarla. In questo mondo c'erano delle intese omosessuali che hanno protetto taluni ed escluso altri. Quindi tu non hai detto niente di male. Però hai oscurato la festa degli artisti. Non hanno parlato di nessuno e neanche di tua figlia e tu vieni a dire a me ho dei figli piccoli e devo rispetto alla loro sensibilità. Ma sei patetico, fai tenerezza. Allora quelli che sono froci e lesbiche, quelli che poverini si sono sposati fra loro, non possono dire lo stesso la tua frase mafia dei froci? Cioè loro dovevano capire che tu scherzavi. E se io dico che mi dissocio da te e che tu hai una grande libertà sessuale che hai sempre dichiarato ho dei figli piccoli e devo rispetto alla loro sensibilità. Ma cosa stai scrivendo? Ma come ti viene in mente? Allora gli omosessuali hanno ragione. I froci di sentirsi offesi perché anche loro hanno la loro sensibilità. Anche loro hanno dei figli piccoli. E poi qui viene fuori la morale che tu sei bravo e io sono stronzo. Io sono stronzo ma tu non lo sei di meno. Ma siamo diversi io e te. E qui veramente vuoi andare sul patetico. Perché tu mi avresti sostenuto. E anch'io ho sostenuto la sostanza di quello che hai detto e continuo a dirla rispetto al mondo omosessuale nel teatro e nel cinema. Ma il tuo tono non è piaciuto a molti e ha in qualche modo urtato alcune sensibilità. Ma siamo diversi io e te. Io ti difendo senza sé e senza ma. E io che devo difendere? Tu hai bisogno che io ti difenda. Io non voglio essere difeso da te. Non difendermi. E io non ti dovevo né offendere né difendere. Volevo dire che io che ho parlato prima di te a lungo non ho usato quel tono. Mi sembrava fuori luogo. Che è come quello appunto di una che va dalla Papa e diceva voi pedofili, voi preti pedofili. Non lo fai perché vai dal Papa. Tutto qua. Io ti difendo senza sé e senza ma. Ma da oggi lasciamo perdere. Ecco. Quest'aria di uno che è stato offeso da cosa? Perché ti avrei offeso? Io da sindaco di un paese, di un paese bello, ricco, con tante iniziative, oggi con le viene che vengono da me e chiedemi di rispondere per te. Ma perché devo rispondere per te? Ho detto. Chiedete a lui. Dite a lui sei un froccio e tu rispondi. Forse ti offenderai. Come fai a offenderti quando l'hai dato agli altri? Quindi in che cosa io non ti avrei difeso. Avrei dovuto dire ha fatto bene? Non so se mi abbia fatto bene o fatto male. So che la sensibilità di molti è rimasta disturbata. Disturbata. Anche a torto se vogliamo. Io ti difendo senza sé, senza ma. Io non voglio essere difeso. Ma da oggi, da oggi non mi difenderei più. Non difendermi. E non fai quello che ti pare. Lasciamo perdere. Peccato. E poi a questo punto fai riferimento a una cosa che non so, forse non so quando è uscita questa cosa, forse... Ah sì, forse la Costanza, dove io sono stato insultato, malmenato da tale Mughini. E a un certo punto ho detto che la cosa per cui Cruciani, che è un altro disacratore, ti giudicava in senso negativo, era in un contesto in cui io non potevo altro che criticare il tuo tono, l'uso di quella parola, la mafia dei froci, tutto qua. Peccato. Inutile di quelle trasmissioni di quel poveraccio di Berlusconi. Intanto io sono andato da Costanza, che è autonomo da Berlusconi, che ha lavorato alla RAI. Non c'entra niente Berlusconi. Ero ospite come tanti altri, da Iva Zanicchi Albano, tu direi che sono... abbiamo difeso Carmelo Bene. Insomma, non ho capito di cosa stai parlando. Non capisco perché fai l'offesa. Non capisco perché fai quella... tu dimentichi troppe cose della mia vita. Io non so delle cose della tua vita. Ne so altre. So che non hai mai avuto problemi con il mondo degli omosessuali e dei trans. Forse questo è utile dirlo, perché capiscono che tu scherzavi e che non ce l'hai con i froci. Ma così è sembrato. Tutto qua. È sembrato quella percezione. Era forse un errore, ma è stata evidentemente determinata dalla tua frase. Io non mi permetterei mai di parlare così. Io come ho parlato. Tu ti sei permesso di parlare così. Io ho detto che non ero d'accordo sul tuo tono. L'ho detto nella trasmissione di Costanzo in modo quasi assolutorio per dire che la cosa era avvenuta e che se uno guardava la sostanza non c'era nulla di male. Ho dei figli piccoli e devo rispetto alla loro sensibilità. Facciamo il patetico adesso. Cominciamo a fare il patetico. Non mi fare il patetico, Barbareschi. Non mi fare il patetico. Sei stato violento. Sei stato duro. Hai mandato a fare in culo i froci. Basta. Sii contento di quello che hai fatto. Hai guastato una festa di artisti a Sutri. Questo hai fatto. E io non mi sono affatto offeso. Ma se ti offendi tu perché io dico che non sono d'accordo sulle tue parole, vaffanculo! 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 E non difendermi. Mi stai sui coglioni cercando di dire che hai ragione quando hai torto, porca puttana. E adesso fumo anche. Addio. Ciao. Adios. Perché è addios? Vaffanculo.